Musica Salve a tutti ragazzi, bentornati in questa nuova puntata di Dust C'eravamo lasciati qui dopo aver ammazzato un po' di mostri E essere morti una volta E aver speso un sacco di soldi per recuperare vita E poi siamo andati più sopra nel cielo Non so come ci sono arrivato Quindi continuiamo e andiamo a vedere Dove ci porta? Arriveremo a sto benedetto capo Parato Secondo me dovevano mettere un pochino più abilità O le dovevano attivare un po' prima Shotted Non mi prendi Ho capito i tempi Li uccidiamo tutti E stiamo a difficile Il problema è che ci tolgono un'unità di vita se ci prendono Ecco appunto Non lo vuole Ah ok col turbine Tiriamo pure la roba che sta in giro Comodo Questa non lo sapeva Aia Che bella non può parlare Scusate la voce Ok bella non può parlare sta modale E vabbè li ammazziamo a mano Oh Un altro qui ci entriamo Andiamo andiamo Di corsa di corsa Oh Una vita nuova Ok bella Shot dead Dov'è? No No Non posso più salire lì Eh no Non posso più salire lì Ci hanno ammazzato Eh vabbè Mi teniamo dal caricamento E che dovevo fare? Un mostro random Perché c'è un mostro random così? Mal Aia Ho parata però Aia Siete troppi Boh Adesso però c'ho di nuovo il cibo? No C'ho niente Stavo messi male Stavo messi male Non ci ho messo un pochino più Gentili Noi vogliamo cibo? Dai corri Amore Anzi ma mangio subito E' un po' di vita L'abbiamo recuperata Oh Ah, riacco così avanti Ah, vedi che mi sono inventato Sacchetto di esordio Non lascere mai niente indietro E qua serve tutto Ecco, dovrebbe veramente un po' Il drop delle chiavi Perché solo comprarle non c'è senso Vai, mi faccio rega così Mi vuol dire che i fulmini Sono pericolosissimi Mavi Bisogna ammazzarle subito Quelle che erano le fulmini Che fanno malecare Lì c'è una pietra volante Pure qui Ragazzi siamo arrivati a un altro checkpoint Siamo morti un paio di volte Non so quanti minuti ho fatto Ma penso poco Però i checkpoint stanno andando a una velocità infinita Probabilmente per sto fatto che uno c'ha poca vita E c'ha poche pozioni Quindi non so che dirvi Questa è appunto la fine della puntata di oggi Alla prossima